Noi siamo un'associazione di promozione sociale nata un anno e mezzo fa al quartiere San Paolo con Principi Attivi 2012. Abbiamo partecipato a novembre a lavoratori dal basso per la realizzazione di biciclette in bambù legate al tema dell'impresa sociale e quindi dello sviluppo di questa nuova tipologia di imprese all'interno di territori particolari come poteva essere appunto il quartiere in cui siamo che è il quartiere San Paolo. Il follow up del laboratorio dal basso che abbiamo realizzato si è concretizzato nella costruzione delle nostre prime biciclette in bambù che abbiamo venduto attraverso l'attivazione di un canale di crowdfunding su produzioni dal basso, network banca etica e quindi le nostre prime biciclette sono state vendute a Venezia e le porteremo in giro per tutta l'Italia in un viaggio promozionale che faremo a fine maggio. L'altra parte, l'altro lato del follow up consiste nell'avviamento di una cooperativa attraverso il bando Cop Startup Puglia.